Buonasera, io sono Ilaria Capo e sono un veterinario, pensate un po' cose che capitano nella vita. Però non vi parlerò di animali e per vostra fortuna non vi parlerò neanche tanto di virus, un pochino, perché in realtà io faccio il virologo, non ho quasi mai messo il termometro nel sedere di un cane o di un gatto, perché fondamentalmente mi fa un po' schifo. Vi parlerò di cambiamento e vi parlerò di come bisogna avere voglia di lasciare la vita precedente per quello che potrete diventare. Io mi occupo di questi virus con cui non vuole lavorare nessuno, sono quelli per i quali ci vuole l'elmetto, i guanti, il mascherone, sono questi virus che spaventano molto l'opinione pubblica e la comunità scientifica. Per parlarvi di questi virus però io ho chiesto aiuto a una persona che si chiama Michelangelo, che è un uomo sì, però insomma diciamo che era anche abbastanza femminile e si vede. Ho chiesto aiuto a lui, ho preso delle immagini della Cappella Sistina, perché così magari ve lo andate a vedere, perché vi posso dire che la Cappella Sistina è una cosa spettacolare. E queste immagini vogliono essere in realtà degli spunti di riflessione, vogliono aiutarmi ad aiutarvi a riflettere. Punto numero uno, l'Italia forma talenti femminili, ne forma tantissimi. Le ragazze si laureano meglio, si laureano in tempi più brevi e ottengano dei voti più alti. E questo ha un costo per lo Stato, perché in questo paese l'istruzione diciamo è gratuita. Ha un costo e l'Italia non può permettersi di non utilizzare i migliori talenti che sforna, nei livelli dirigenziali più alti, perché voi capite che se no si va in perdita. Bisogna recuperare questo costo. Un altro spunto di riflessione è sull'ambizione. Un uomo ambizioso va bene, una donna ambiziosa è mica tanto, ma questa sgomita, ma cosa vuole, ma insomma non va tanto bene. E invece una sana ambizione non ha nulla di male. E guardate questa immagine qua di Michelangelo. Uh, sono tornata indietro. Guardate questa immagine di Michelangelo. Lui che ha anche la tartaruga sull'addome, come potete vedere, bello. E lei con la sua scala, no, per salire, e lei che la scala ce l'ha qua, tang, negli occhi. Non va bene, non va bene. Vi voglio anche parlare di opportunità, di opportunità da cogliere, perché le opportunità passano. L'abbiamo sentito prima, in questa sessione io veramente ho sentito musica per le mie orecchie. Le opportunità passano. Però diciamo che l'opportunità trova te, ma tu pure ti devi voltare, perché se l'opportunità trova tu e te, e tu sei girato da un'altra parte, diciamo che non funziona così. Quindi su, diciamo, utilizzando questi quattro spunti di riflessione, vi racconterò un po' della mia vita. Io spero che, ecco, allora, io mi sono trovata in giovane età a dover gestire il più grosso focolaio di influenza aviaria che si fosse mai verificato al mondo. L'influenza aviaria è il virus più aggressivo che vi è nel mondo animale. Uccide il 100% degli animali che infetta in 48 ore. È come il veleno, è come il gas. A quei tempi, parliamo del 99-2000, nessuno aveva avuto un'epidemia del genere, non si era mai verificata e soprattutto era vietato vaccinare. Voi capite che, insomma, per salvare la vita di questi animali e per salvare un intero comparto produttivo, qualche cosa bisognava anche fare. Eccola qua, vedete, giovane, giovane. Mi sono trovata in mezzo a questo casino gigantesco e cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato, lavorato, giorno, notte, sabato, domenica, per gestire questa epidemia gigantesca. Abbiamo studiato tantissimo e abbiamo, con una trovata, guardate, vi posso dire pure una cosa semplice, abbiamo sviluppato il primo sistema di vaccinazione al mondo che permettesse, da un lato, garantisse la salute degli animali e dall'altro permettesse l'esportazione dei prodotti. Perché se tu allevi i polli e poi non puoi commercializzare la carne, mica ti posso fare compagnia ai polli. Ecco, e quindi era abbastanza importante. E questo sistema, che è stato il primo a essere utilizzato, è andato a finire oggi. Se voi prendete la legislazione dell'Unione Europea su come si gestiscono le malattie degli animali, vedete che c'è il nostro sistema DIVA incluso nella legislazione europea. Quindi, una ragazzina come me, una ragazzina, ti fai venire in mente una cosa che abbia un senso, c'è il coraggio di portarla avanti, l'ambizione, cogli l'opportunità e il tuo sistema va a finire nella legislazione europea. Ma di più, il, vabbè ma questo è questione di fortuna, il, ma vedete che arriva dopo. Allora, cogliere l'opportunità, quando io ho cominciato a lavorare in questo istituto, eravamo un gruppetto di persone, voglio dire anche che si volevano bene, armati di buona volontà. Grazie a questa idea, alla visibilità, al fatto di avere, diciamo, avuto scritto progetti di ricerca, eccetera, eccetera, il gruppetto che là beve Coca-Cola, festeggia un matrimonio, è diventato un gruppo leader a livello mondiale nella propria microdisciplina di riferimento che ha attirato 12 milioni di euro in 5 anni in Italia per fare ricerca in Italia e abbiamo avuto il riconoscimento delle organizzazioni internazionali. Quindi, ma siamo stati bravi, ma i miei ragazzi sono stati bravi, ma bravi, facciamogli un applauso ai miei ragazzi, bravi, e mica sono bravi solo i tedeschi. Ritorniamo a Michelangelo. Nella vita, ragazzi, ci vuole coraggio e ci vuole grinta. Ci vuole anche saper sfidare le consuetudini, andare contro quello che sono i dogmi. Prima ho sentito parlare di dogmi, le persone magari anziane, mature, che ti dicono ma no, questo non lo puoi fare, questo non si può fare, non si può fare. Michelangelo qui l'ha raffigurato bene, questa pure sembra che gli dà una sberla al nonno qua. Allora, parliamo di un altro virus della viaria, non ha importanza, comunque l'H5N1, una preoccupazione per la salute pubblica internazionale. Questo virus nel 2003 parte dall'Asia, infetta tre continenti, non si era mai verificata prima una cosa del genere, e noi eravamo a quell'epoca già un laboratorio importante, avevamo un sacco di collaborazioni con Mezzomondo, e però una delle consuetudini che c'erano era che i ricercatori si tenevano le informazioni relative ai virus, come tipo le impronte digitali, nascoste dentro un castetto. Il che, voi capito, non va tanto bene, perché se tu lavori per la salute pubblica, che fai? Ti tieni le informazioni dentro i cassetti? Cioè, bisogna lavorare insieme, siamo o non siamo di fronte a un'epidemia. Il virus arriva in Africa e il nostro laboratorio è stato il primo a isolare e caratterizzare il virus africano. Quindi noi avevamo un tesoretto, cioè ognuno ha i tesori che vuole. Noi avevamo sto virus, che tutti stavano a guardare sto virus, e tutti volevano sapere com'era sto virus. E allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo sfidato la logica precostituita, siamo andati contro il sistema. Il mio istituto è stato il primo a isolare questo virus africano, abbiamo declinato l'offerta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di depositare questo virus in un database ad accesso limitato, al quale potevano avere accesso soltanto 15 laboratori, e l'abbiamo messo in un database ad accesso pubblico. Perché se siamo di fronte a un'epidemia, bisogna che lavoriamo tutti insieme. E questa cosa, di fatto, ha... Io mi sono ficcata in un pasticcio, che neanche vi dico, sono viva per miracolo, ma è venuto science, che non è che viene tanto spesso nei laboratori italiani, ma soprattutto abbiamo iniziato un dibattito a livello internazionale dove la comunità si è chiesta, ma che è sta storia che i ricercatori si tengono i virus dentro i cassetti? Questo sistema deve cambiare. E infatti il sistema è cambiato e oggi l'OMS, come tante altre organizzazioni internazionali, promuove la trasparenza dei dati e la libera circolazione dei dati. E lo sapete perché è importante? Per Ebola! Cioè, se uno ha un virus mortale che sta in Africa, che può prendere un aereo e venire in Italia, vogliamo lavorare tutti insieme oppure vogliamo stare a farci... Scusa, questo non te lo faccio vedere, questo non te lo faccio vedere. E quindi, di fatto, abbiamo determinato un cambiamento nelle politiche sanitarie internazionali. E questo, devo dire, mi ha portato poi a molta gloria. Ho vinto un sacco di premi, questo Scientific American 50, uno dei 50 migliori ricercatori al mondo. Se sono sbagliati. Ma no, si sono sbagliati! No, hanno sbagliato! Revolutionary Mind! Ma non vi pare a voi che ho fatto una cosa normale? Cioè, a me pare che ho fatto... Però, Economist, qua vedete, questo nel 2013, io non sono quella col cappello rosso, sono quella col camice. Economist dice questa sarà una delle persone più influenti, eccetera. Per aver fatto, voglio dire, una cosa che chiunque avrebbe potuto fare. E adesso arrivo alla fine della mia presentazione e vi racconterò una cosa che io... È la prima volta che racconto in Italia. E vi parlerò di come bisogna evolversi, bisogna cambiare, bisogna trasformarsi. E Michelangelo ci fa vedere le due pettinature, lo sguardo curioso della donna a sinistra, anzi a destra. E vi parlerò del cambiamento. Il 6 gennaio del 2013, ora ve la faccio corta perché non abbiamo molto tempo, ricevo un SMS da Mario Monti, che io pensavo fosse uno scherzo, cioè ti pare che questo manda un SMS a me, il quale mi chiede se io volevo candidarmi alle elezioni. E riassumo perché poi la cosa è stata abbastanza buffa, perché io non me la sarei mai aspettato. E così è stato, io ho pensato, noi siamo sempre a lamentarci di questo nostro paese dove le cose non funzionano e ti viene chiesto di fare qualche cosa per il tuo mondo da un altro punto di vista. E allora io gli ho detto di sì. Gli ho detto di sì e da allora sono in Parlamento. Mi piace mettere questa diapositiva perché la foto è uscita su Nature e c'è scritto Italian Prime Minister Mario Monti a sinistra, come se qualcuno potesse pensare che è Primo Ministro. Comunque al di là di questo mi sono trovata sparata in Parlamento, io che stavo lì a pasticciare come i virus fino a una settimana prima, insomma un'esperienza, un grande cambiamento, però non è di questo che vi voglio parlare, io vi voglio parlare di questo. Poco dopo la mia elezione in Parlamento ecco che cosa mi è successo. Questa è la cosa più importante che io vi dico oggi. Mi è successo questo. Ho fatto la copertina dell'Espresso ed è uscita una notizia sul fatto che io fossi in realtà non una scienziata ma una che nascondeva i virus e li vendeva e trafficava in virus eccetera eccetera. Io non entro, non voglio entrare nel merito di questa cosa che mi ha travolto, mi ha colpito, mi ha fatto soffrire moltissimo. Io voglio dirvi che queste cose succedono. Ragazze, aprite bene le orecchie. Se voi siete delle donne di successo, questo accade, anche agli uomini di successo. Accade, il fango arriva. I messaggi che vi voglio dare sono questi. Prima di tutto, la leadership è fatica. Tanto lavoro. Fatica. Secondo, implica necessariamente che si vada contro schemi consolidati. Nessuno diventerà un leader se fai quello che è stato fatto prima di te. Lo abbiamo sentito prima. Gli individui di successo hanno molti nemici. Ricordatevelo, ricordatevelo. Subirete attacchi, subirete violenze, subirete maleducazioni, subirete offese. E non capirete perché. Perché? Attraverserete momenti di grandissima gioia, ma anche di disperazione. Questi messaggi qui, vedete il mio branco di pesciolini? Sono i pesciolini. Perché la cosa più importante che vi voglio dire è che il dolore può devastare, può distruggere delle carriere, le può spezzare e perdere delle carriere e dei talenti perché il fango o le difficoltà arrivano, non è giusto. E quindi il pesciolino rosso della mia relazione, il vero messaggio è questo, che bisogna essere resilienti, bisogna rimettersi insieme. I colpi duri arrivano, arrivano nella vita privata, arrivano nella vita pubblica, arrivano perché ti esponi, arrivano perché ti capita una sfortuna, arrivano ma questi sono in realtà delle opportunità travestite perché questa faccenda mi ha fatto ripensare a tante cose della mia vita, mi ha fatto ripensare a errori che ho fatto, mi ha fatto ripensare a che cosa voglio fare in futuro e vi garantisco che per me questa sarà stata un'opportunità. e chiudo con questa, che è di Lao Tse, ciò che il bruco chiama la fine del mondo, il resto del mondo chiama frafalla. Ricordatevi che cambiare, cambiare è soltanto un'opportunità e si può diventare più belli, più forti, più ricchi e vivere con più gioia. Grazie. Grazie. Grazie.